Ciao buona domenica dai Mike, benvenuti ad una nuova puntata della Trenchart, la classifica delle 20 canzoni trends della settimana. Ogni domenica pronto a farvi emozionare appunto con le 20 canzoni più forti. Oggi avremo una nuova entrata, la troviamo subito alla posizione numero 20 che andiamo subito ad ascoltare. E' il nuovo singolo di Cupidonic e di Lara Gadella e si intitola Dragon Hearts. E' il nuovo singolo di Cupidonic e di Lara Gadella e si intitola Dragon Hearts. E' il nuovo singolo di Cupidi. E' il nuovo singolo di Cupidi. Cupidi. Grazie a tutti Grazie a tutti Saliamo il 19 Alex Berka in salita con Heria Grazie a tutti 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 Dopo due settimane stabile alla posizione numero 20 guadagna un posto il singolo di Alex Berka intitolato Heria Al numero 18 invece non si muovono sin touch and spins con The Isolation Grazie a tutti 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 Tell me Grazie a tutti 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 Out of the Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti The one Grazie a tutti 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 Second Grazie a tutti 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 Al 4 Grazie a tutti 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 Numero 4 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti